Oggi abbiamo appreso che Jonathan, il mignottaro di Prato, non ha ritirato le mutande della porcellina Gloria che aveva acquistato per ben 240 euro. Forse perché ha paura che la moglie gli rompa le corna, oppure perché preferisce accarezzare le mani ai negri sui mezzi pubblici come fa il suo idolo, il generale incursore un po' pederasta con la vestaglietta. Le mutande che odorano di Chanel numero 5 e di Baccalà, non a caso perché in Sicilia la fregna viene chiamata anche Baccalaru, sono rimaste in consegna al pro de Cottardo che non fa altro che annusarle tutto il giorno perché è uno sporco felicista e si spara dei rasponi monumentali. Ciao Alberto, ascoltate, avevo detto che oggi riuscivo a connettermi. Il problema è che ieri sera siamo arrivati, sono arrivati tradissimo a Londra, tipo, non so se hai visto, c'è stato un grande problema all'aeroporto. Perché tutti i sistemi di controlli elettronici dei passaporti erano bloccati, quindi sono rimasto un nuovo bloccatore dell'aereo, poi due ore camminando e sono arrivato a casa alle due ore e mezza di notte. Quindi non sono molto in forma, adesso cerco di collettermi dopo, cerco di fare un esempio. Ieri chiudo le 7.53 e oggi vuoi battere il record? Ma vai a fare un culo, ma vai a fare un culo, chiama gli abbonati e chiedigli se sono contenti, chiama gli abbonati e chiedigli se sono contenti, vai, vai, chiama la signorina Baol, vai, vai, chiedigli se è contenta, chiediglielo, fallo, 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 viva il capofabbro, anzi, chiama anche il capofabbro, bravo. Buongiorno a tutti, a tutte e soprattutto a te che hai deciso di stupirmi donandomi questa cosa graziosissima che mi ritrovo in questo momento tra le mani. E' come se mi avessi in qualche modo letto nel pensiero e se di sorpresa una donna può vivere, tu sicuramente sei andato oltre. Tutti curiosi di sapere di che cosa si tratta? No, ve lo lascio indovinare. Anzi, vorrei lanciare invece una nuova quest per la mutanda che è ancora in terra baffogottarda. Non esiste, non esiste che il feticista se la tenga. Voglio un'altra riffa. Certo che, caro Alberto, appoggiaglielo sulle mani, vedere il suo sorriso, sentire la morbidezza delle sue labbra, sentire il profumo suave di tutti i suoi orefizi, è stato per l'ennesima volta una cosa stupenda. Stupenda, caro Alberto. Però mi devo accodare alla nostra beata e leggiadra signorina, dicendo che sei un coglione, un maledetto testa di merda e che le mutande o le restituisci o le rimetti all'asta. Perché se non le restituisci, il prossimo a prenderlo in mano potresti essere tu. Ogni volta che ascolto il morning all'inizio e anche quando a volte vado nella chat, mi viene in mente quel fumetto di Edica Totem Comic e c'era quella frase, perché tanto odio? Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani, posseduaci del maligno, cisgender o genderfluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi, il morning show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning show dalle sette alle nove, gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, figli e imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning show dalle sette alle nove, se lo ascolti non ci prenderai, 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Questa luna è mare in mano, 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning show dalle sette alle nove, è ora di finiamola con sto schifo. Morning show, noi dobbiamo andare avanti! Buongiorno, 8 maggio 2024, siamo in luna nuova, si celebra la madonna del rosario di Pompei e ricordate, cerchiamo sempre di fare il meglio con quello che abbiamo a disposizione. Ciao! Il legionario ha anche un po' rotto il cazzo, non fa mica più ridere. Sì, è vero, il legionario ha fatto il suo tempo, io credo che abbia abbastanza rotto i coglioni, anche perché ormai non dice più cose di carattere generale. Se la prende con singoli interventisti di questo programma, se l'è presa con il tizio di Prato, il tizio di Prato ce la tiene così a spiegare che lui non è mai stato con donne a pagamento e quindi gli devo anche questo chiarimento, perché chiaramente prima di mettere dei messaggi per quanto ironici su delle persone cerco sempre anche di avere l'autorizzazione di quello che non si senta offeso, che se la faccio alla fine come con Luca Zaia, che la settimana prossima, pensa che con il correttempo è già arrivato il tempo di dire la settimana prossima. Lunedì prossimo sono a processo con Luca Zaia, mi mancava solo questo, in questo periodo assolutamente sgangherato in cui faccio delle giornate tipo ieri che mi alzo le 5 e mi corico di nuovo a mezzanotte e mezza. E ringrazio Simone Luni per la pazienza, perché gli mando tutte le cose all'ultimo, anzi un po' più tardi che l'ultimo, ma lui riesce a metterle in onda. Mi scuso con gli ascoltatori, ieri è stata una puntata ridotta, sarà una puntata ridotta anche questa. Perché purtroppo questo riesco ad esprimere in un momento in cui ho deciso di intraprendere una battaglia, una battaglia importante, quella della campagna elettorale. Si chiama campagna perché è un termine militare. Cioè c'era la campagna di Russia che andò malissimo, a Napoleone c'era la campagna, cioè ogni posto dove andavi a fare la guerra, a portare le truppe, si chiamava appunto campagna, perché è così e tu hai un territorio enorme che è quello dal Trentino Alto Adige fino alla Romagna, cioè si va da Riccione a Bolzano, da Modena fino a Trieste. Cioè pensate solo le diagonali, pensate che sia una piastrella enorme e voi dovete infilarvela tutta nel buco del culo. Ecco io credo che si possa dare questo tipo di similitudine nel lavoro che sto facendo di qui al prossimo mese, di qui al mese scorso. È una cosa devastante, però è anche bellissima. Io spero poi che il risultato sia adeguato, ti dà delle possibilità molto belle. Ieri ho fatto una chiacchierata piuttosto lunga con Carlo Cottarelli, per esempio, quando è che ti capita di chiacchierare con Carlo Cottarelli e abbiamo incontrato persone che ci credono, che ci credono come noi, che ci credono come me, nella possibilità di eleggere un ragazzo di 35 anni che ha già 60 dipendenti nella sua azienda, che è uno che parla perfettamente quattro lingue, che ha un'idea di cosa deve essere la prossima Europa. Ecco io per una cosa del genere, oltre che per il fatto che sono più che pagato rimborsato e poi mi rendo sempre conto che chiedo troppi e pochi soldi per il lavoro che esprimo, però io ci credo e quindi è per quello che poi sto anche un po' sacrificando il morning e me ne scuso, però io faccio sempre e solo le cose in cui credo davvero con il cuore. Fammi sentire un paio di messaggi. Magari fai una cosa e la fai bene, no? Infatti, infatti sto facendo bene, sto facendo bene la campagna e per un mese trascurerò un po', non l'intensità ma la lunghezza di questo programma. Fammi sentire l'altro. Ho visto Pasqualetto in televisione ieri sera che sicuramente non era andato a vederlo. Ma è un ragazzino? Ma quanti anni ha? 35. Ma può andare veramente in Europa a un ragazzino così giovane? Quanto ha? 28 anni? 35. Ha 35 anni, ha una laurea, ha un master a Parigi, ha fatto un'azienda che ha ceduto poi a Zucchetti, che è un operatore importante dei software gestionali a livello internazionale. È uno che ha fatto 12 anni il consigliere comunale, che è una rottura di coglioni, è pazzesca, c'è una moglie, c'è una bambina, c'ha la voglia di cambiare le cose dall'interno e io non devo spaccarmi il culo per uno così, che non è un ragazzino, ha 35 anni, ha l'età giusta per spaccarsi il culo, io muoio. Lui invece la mattina dopo è già pienamente recuperato, magari non ha 67 punti di invalidità, come ce l'ho io. Sentiamo ancora qualche altro messaggio. Senti, per me puoi fare il cazzo che vuoi, però non dire cazzate del genere, non riesco e tutto. Tre quarti di noi si alza le 5 e lavoro fino alla sera, però non è che se mi alza le 5, allora dico, ma sì, invece che a Luna il negozio lo chiudo alle 11 e mezza, perché poi alle 3 e mezza devo ripartire, fino alle 8 non ce la fa. No, hai ragione, hai ragione amico mio, fermo, però volevo dirti che se il nostro amico dice ho visto Pasqualetto ieri sera in televisione, vuol dire che ieri sera in televisione abbiamo finito alle 11 e un quarto e da San Biagio di Callalta a Padova è un'ora di macchina, per quanto corri è un'ora di macchina e quindi vuol dire che io sono arrivato a casa a Luna e non ho il fisico, non ho il fisico perché sono vecchio, perché ho 48 anni, sono troppo vecchio per fare campagne elettorali e non ho il fisico perché ho 67 punti di invalidità permanente e sono estremato e quindi va così, se non fai mi sentire gli altri messaggi. Ma possiamo venire anche noi in campagna sul van elettrico? Io puoi fare benzina con la pompa, sono bravissima. Lottardo, credi nei tuoi ideali e vai avanti nella tua battaglia. In tutto questo, come dice il saggio da Montoggio, forse gli abbonati non saranno molto contenti, ma faranno una ragione. Grande Alberto, a tutta forza. Grazie. È praticamente un Elon Musk veneto? Mecoglioni, complimenti. Il nuovo Berlusconi, Pasqualetto. Allora, il problema di Pasqualetto è che non si droga, come invece fa Elon Musk che si prende la chetamina e altri tipi di droghe e non è il nuovo Berlusconi perché purtroppo, e sottolineo, purtroppo, non va a puttane, non ha vizi, perché non ha vizi, cioè non va a pippa di cocaina. Che cazzo? Io mi sono lamentato, voi non ci crederete, ma eravamo in voce con la moglie, e io mi sono lamentato del fatto che il suo marito non abbia nessun tipo di vizio. e Carlo Pasqualetto ha detto una cosa divertente, ha detto, beh, io sono il contrario di te, ma ammetto della droga che non mi drogo nemmeno io. E forse è per questo che andiamo d'accordo e effettivamente, caratterialmente, sicuramente, il contrario di me non si incazza mai, non bestemmia. Uno che non, un veneto che non bestemmia, non beve e non si incazza. Forse per quello che ci ha, ha avuto successo finora, 60 dipendenti, ha chiuso un deal importante con Zucchetti, ha riuscito a farsi eleggere, io non riuscirei mai a farmi eleggere la gente, non mi voterebbe. E invece vota probabilmente, almeno spero, che voti sto ragazzo qua. Allora, andiamo con ordine. Avevo, così, fatto una selezione di un paio di audio. Io comunque, fossi in te, caro mio baffone, mi candiderei direttamente. Ma saresti bravissimo, e lo dico davvero. Ma sicuro. E magari te ne avrebbe anche di più dal punto di vista economico. Ma questo sicuramente. E se vuoi la campagna, te la facciamo tutti noi. Allora, sicuramente guadagnerai di più. Guarda, anche perché guadagnare di meno da questo programma, ad esempio, da cui non percepisco, un euro, è evidente che guadagnerai di più. Però, io credo che, che dovrei farcela, a resistere, all'idea di candidarmi, perché non sono un candidato adeguato. Questo lo chiamano la tizia di posti di Ficarolo. Ho scoperto che esiste un posto in provincia di Rovigo che si chiama Ficarolo. E' questa che gli spacca i coglioni per 30 minuti di seguito. Dovebbe essere Mantova, non Rovigo, comunque Ficarolo. Non lo so, del cazzo sia stato. Eh, è Mantova. Sì, vabbè, è confini con Rovigo, ma è Mantova. Beh, meraviglioso. Ancora meglio. Ancora meglio, perché questo è segretario regionale del Veneto. La chiama uno da fuori Veneto che rompe i coglioni sul candidato di Rovigo che credo che tra Ficarolo e Rovigo ci siano tipo 200 chilometri e lui la sta ad ascoltare. Ma cosa dici? Saranno 30 chilometri da Ficarolo. Ma è un'altra regione? È un'altra regione però. E allora, è comunque sicuramente un altro comune. E allora, è come se, non so, io chiamassi Mazzoli e dirgli, guarda, io faccio il morning show la mattina e invece tu fai lo zodi 105. Ma ieri pomeriggio hai detto una cosa che a me non sta bene, hai fatto un errore tecnico e compagnia e gli spacchi i coglioni per 30 minuti. Uno può mandarti in Mona oppure no? Invece no. Noi non la mandi in Mona. L'ascolta, dice sì, effettivamente hai ragione, però guarda, se la vedi da questo punto di vista, è così, ecco là, la prossima volta ci ragioniamo. Cioè, porta una... io quando ho messo giù ho detto, oh ma, questa stronza qua, quando è che la mandi a fare in culo? No, perché questa è una che si impegna nel partito, crede nelle cose, è sempre presente, bisogna dargli una mano, sai, poi la gente è sola. è meravigliosa da questo punto di vista, cioè, io sto imparando che ci sono delle persone che esercitano la buona educazione, è una cosa assolutamente sconosciuta per me, sentiamo ancora. Dai però, porco Dio Alberto, ci rendiamo conto che siamo ridotti a parlare di Pasqualetto alle 7 e 15 del mattino, se neanche fosse Churchill. Alberto, allora ti do una ricetta per accumulare molte energie durante la giornata, allora ti alzi un'ora prima, ti fai una doccia fredda, ti segui, poi fai il morning show, nella pausa, durante un blocco, hai due minuti e mezzo di una canzone per segarti, poi finisci il morning show, doccia fredda, ti segui, poi vai a farti le tue commissioni, tutto, pre-pranzo, sega, post-pranzo, sega, mezzo pomeriggio, pre-caffè, sega, pre-cena, sega, poi arrivi la sera, doppio seghino e vai a andare. 10, cioè io dovrei minarmi l'uccello dieci volte, credo che mi prenda fuoco, poi alla fine, poi comunque due minuti e mezzo, davvero non riesco a combinare assolutamente nulla, non è così, caro mio, fammi sentire l'ultimo. fare campagna elettorale significa leccare il culo a qualsiasi personaggio che ti gira intorno. No, mamma mia, allora sei perfetto. Ma no, non è così. Ficarolo si infila da una sbrisola sopra il buco del culo. E i confini però, Ficarolo è sotto Rovigo, però mi ricordo qualche anno fa quando ormai c'era fax, mail, così, e io ho detto vi mando un fax dell'offerta, parliamo di 15 anni fa, e mi fanno no, no, mi mandi un'offerta via posta perché non abbiamo il fax. Anche a me piace la doccia fredda la mattina, era invigorente, se poi sei in due, ancora meglio. Ok, perfetto, benissimo, io la chiuderei qua e cercherei di parlare di una cosa che avevo selezionato, ovvero la grande diatriba, la grande incazzatura tra due vecchi. Una si chiama Lilligruber, l'altro si chiama Enrico Mentana e cosa è successo? Nella edizione credo di boh, lunedì, non so neanche che giorno sia, oggi forse mercoledì, nell'edizione di lunedì il TG di Mentana è andato dritto, è andato lungo di una diecina di minuti. Sentiamo come ha iniziato il programma otto e mezzo Lilligruber. Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza ma è a otto e mezzo ma insomma l'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo. Buonasera e benvenuto Corrado Augas, giornalista e scrittore. Che poi voglio dire quando io ho sentito l'incontinenza è una brutta cosa buonasera Corrado Augas ho detto avrà iniziato alle otto e quarantasei invece che alle otto e trenta perché Corrado Augas si è pisciato addosso e ha lagato ha pisciato sui cavi o roba del genere perché sei uno che ha 90 anni magari l'incontinenza cioè dire l'incontinenza è una brutta cosa di fronte a Corrado Augas non è bello ma Lilligruber non si riferiva a Corrado Augas ma si riferiva a Enrico Mentana ed Enrico Mentana non gliel'ha fatta passare liscia sentiamo come ha aperto il telegiornale di ieri e soprattutto sentite la conclusione allora e ieri sera siamo andati un po' lunghi col telegiornale era una giornata cruciale importantissima la prospettiva di pace in Medio Oriente la tragedia terribile di Casteldaccia vicino a Palermo e tante altre notizie in più come ogni lunedì c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il data room di Milena Gabanelli come ogni lunedì siamo andati un po' lunghi me ne scuso con i telespettatori un po' lunghi ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete chi ci ha seguito Lilly Gruber perché non mi piace far finta di non sapere nomi e cognomi ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto io mi siedo qui scusate la prima persona singolare da 14 anni per fare questo telegiornale non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell'azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore domani sera vedremo se c'è stato qualcosa se no ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze ma come si permette sto cazzo di canotto di 150 anni a prodotto a Lampedusa sto staccazzo di Miss Botox dei miei coglioni che parla si deve sciacquare la bocca e fare delle gran pompe quando parla di Mentana sta incoglionita eh sia Mentana che Augas cominciano ad avere una certa e dunque l'incontinenza fa un po' parte del percorso mi viene da dire certo che anche Lily Gruber tutta questa eleganza ha sforato di 16 minuti e ti ricordo che Hitler ha invaso la Polonia per molto meno ma non è che diceva rivolta a se stessa cioè che se era pisciata addosso doveva cambiarsi il panolone non lo so non lo so però io credo che finirà male perché nella coda di quell'audio c'è il veleno come dicevano i latini in cauda venenum cioè potrebbe esserci qualcosa di clamoroso non so Simone Luni se riesci a farmelo sentire un'altra volta solo gli ultimi dieci secondi perché Mentana dice o l'azienda mi difende o l'azienda fa qualcosa a Lily Gruber oppure io mi dimetto perché io l'ho capita così non so Simone se riesci a farmelo sentire di nuovo io mi siedo qui scusate la prima persona singolare da 14 anni per fare questo telegiornale non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell'azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore domani sera vedremo se c'è stato qualcosa se no ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze perché capisci anche il fatto che incespica vuol dire che lui dentro di sé dopo 14 anni è in qualche maniera anche emozionato vuoi vedere vuoi vedere che Mentana magari ha in mano un contratto con Discovery o con un'altra azienda e va via domani stasera anzi e gli ho sbatto al culo tutti quanti e va a fare la maratona di Mentana Discovery perché sai potrebbe essere davvero clamoroso io non ho nessun elemento è una è una spessa di promunizione che ho io la perfetta sintesi di quello che abbiamo appena sentito però la fa Giorgio sentite Giorgio ma come parla la merda e la diarrea decidete voi chi è meglio o la merda o la diarrea è uno peggio dell'altro ciao belli però però come che vita sarebbe senza Chico Mentana sulla 7 non lo so però io ho come l'impressione che potrebbe succedere l'incredibile stasera Enrico Mentana che si dimette dalla 7 dalle direzioni e poi potrebbe succedere una cosa ancora migliore non so David Parenzo che viene nominato direttore della 7 beh sarebbe una cosa fantastica io tifo fortissimo per questa questa ipotesi qua via Mentana e dentro Parenzo alla 7 e io di Parenzo della 7 gli potrei dire sono sempre stato tuo amico David se diventi direttore della 7 io divento amico di David Parenzo perché ho capito una cosa che è meglio essere amici dei potenti piuttosto che con la schiena dritta però in realtà sto scherzando non farei mai una cosa forse gli manderei un messaggio di congratulazioni sempre che non mi abbia bloccato su Whatsapp perché sono tre anni che non lo sento sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori cosa deve fare l'azienda mandare due tipi con la saldatrice saldare la bocca delle gruber cosa vuoi che faccia secondo me Enrico vuole andare alla 9 cioè è già pronto il contratto la cosa il rapporto si è inaugurato da un po' e quella la scusa ho avuto la tua stessa identica idea quando ho sentito ieri il video visto il video su Telegram nel gruppo del Moami che Mentana non l'abbia presa benissimo che si dimette dalla 7 e il pensiero va subito alla 9 effettivamente ecco io fossi Giorgio non parlerei di merda di R.E.A. perché lui è il terzo lui è il Tarzan e l'ho attaccato ai peli del buco del culo durante una brutta bruttissima giornata in ufficio diciamo che te avresti piacere di Parenzo direttore della 7 come avevi piacere di Berlus con il presidente della Repubblica credevate di ascoltarvi tutto il podcast e invece questo è l'antipasto che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti ma per continuare ad ascoltare la puntata devi abbonarti cioè clicchi sul link successivo quello con il lucchetto quello con scritto a pagamento e paghi se no ascolti solo gli antipasti